Sabato 30 marzo, San Secondo, è il novantesimo giorno dall'inizio dell'anno e ne mancano 276 al termine. Il sole sorge alle 5.54, tramonta alle 18.37, la luna si leva a mezzanotte e tramonta alle 7.53. Con decreto di Napoleone si proclama l'unione del Veneto al Regno d'Italia. Belluno, Conegliano, Treviso, Feltre, Bassano, Padova, Vicenza e Rovigo sono denominate Ducati. Eugenio Buarnè viene investito del titolo di principe di Venezia. Le previsioni per domani? Tempo variabile a tratti instabile, soprattutto sulle zone centro-settentrionali, dove saranno maggiormente probabili e più frequenti delle precipitazioni. Nevose sopra i 1100-1400 metri. Temperature prevalentemente in calo.